brescianini reteghi reteghi brescianini praticamente i due nuovi acquisti della davanta questa sera hanno fatto vincere la davanta e hanno portato e hanno portato tre punti all'atalanta brescianini 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 ho detto brescianini 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 è un calcio champagne lo possiamo dire tranquillamente quello dell'atalanta di questa sera ma veramente un calcio champagne fatto a tarte brescianini allora da dove partiamo partiamo da brescianini brescianini ne fa due due rischia di farne tre se stava portato il pallone a casa si stava per portare il pallone a casa reteghi il primo gol da attaccante puro svetta in area di rigore sovrasta il difensore punti testa e ci mette un culo ai difensori dell'atalanta brescianini il primo gol ovvero il primo gol dell'atalanta rispinta del portiere brescianini punta pin vincente 1 a 0 arriva il super gol di reteghi arriva la doppietta di reteghi sul calcio di rigore messo dal bar giustamente e poi arriva la doppietta di brescianini 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 doppietta colui che una settimana fa doveva vestire la maglia del napoli ha detta di molti ma vi state lamentando per uno scarto non preso quando qua quando io dico che di calcio ne capite poco eh quando di calcio ne capite poco perché guardate il nome se si chiamava brescianinio valeva 50 milioni mo 50 sono troppe ma 20 25 milioni li valeva e ragazzi gaspedini vince la prima vada avanti vince la prima a dimostrazione che anche mettendo subito i ragazzi nuovi li puoi far giocare perché brescianini avrà fatto un allenamento una settimana di allenamento nemmeno quattro giorni a fatica con l'atalanta è pretitolare raffa marina no non sappiamo perché raffa marina non può pazziare ma fa pazziare a one jesus dobbiamo far giocare a one jesus comunque l'atalanta c'è 4 a 0 ma tutto cosa vuoi dire dopo un 4 a 0 così schiacciante io mi auguro che lecce si salvi naturalmente ma credetemi che secondo me è difficile visto che per l'ennesimo anno i tifosi del lecce si devono vedere una squadra fatta di nomi raccattati a caso secondo me perché non lo so non lo so io vedo una davanta quest'anno che potrebbe insidiare l'inter agliù questi si è rotto scamacca hanno piatto retechi retechi alla prima doppietta brescianini doppietta naturalmente poi arriverà pure loro un calo a parte siamo alla prima e calcio d'agosto questo lo dobbiamo dire i carichi si faranno sentire però agliù i carichi si fanno sentire ma non per la davanta questo lo dobbiamo dire comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti io ancora non ci credo brescianini ne schiaffa due retechi due e chi sta già sono in forma smaiante iscriviti al canale sempre comunque forza napoli ci vediamo dopo i non colorati e il como